Allora, Sassà, 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 i surfisti che passano... Un ugolo di spettatori, come in questo momento, però di viversi delle atmosfere, fare delle scoperte e conoscere appunto degli autori, delle poetiche, giornalistiche, politiche, come è stato in questa manifestazione, poetiche, come è in questo momento. E poi per i diretti interessati diventa un'occasione di confronto, non a caso appunto, poi nascono delle amicizie e anche perché no delle collaborazioni. Allora, quando Graziano Lanzidei stava compilando delle proposte da fare a Massimiliano Coccia e all'organizzazione per il programma del festival, si era pensato insieme di invitare Simona Binni con il suo libro che sta portando il suo editore in short, Emanuele Di Giorgi della Tunuè, eccolo qui, Silverwood Lake, che è questo graphic novel edito dalla casa editrice Tunuè. La casa editrice Tunuè è ormai dal 2005, insomma, quindi ormai da 12 anni, una delle eccellenze del fumetto nazionale e da un paio d'anni anche di letteratura. È una casa editrice che ha base qui a Latina, però è lanciata in tutto il mondo, insomma, i suoi libri sono tradotti, i loro libri sono tradotti anche in altre nazioni e fanno sia produzioni di libri originali, come Silverwood Lake di Simona Binni, sia traduzioni di autori francesi, messicani, spagnoli, premiati in tutto il mondo e di cui loro appunto sono gli editori in Italia. Silverwood Lake è il terzo libro che Simona Binni ha pubblicato, la terza graphic novel che ha pubblicato per Tunuè ed è un libro che cerca, è forse il libro della maturità, un piccolo salto in avanti all'interno della produzione. Raccontaci un pochino il percorso che ti ha portato qui, Simona. Allora, io sono una fumettista, da sempre disegno e scrivo le mie storie, così dopo aver fatto tutt'altro nella vita, perché io ero una psicologa, facevo una psicologa e a un certo punto ho realizzato questo mio sogno, cioè fare una scuola di fumetto e da lì ho iniziato questo percorso scrivendo e disegnando le storie. Mi sono presentata alla Tunuè, questa casa editrice bellissima che io già seguivo da un po', e gli ho presentato il primo progetto che si chiama Mine e il vulcano ed era una storia pensata per ragazzi, per la linea di Pitondi, che è una linea appunto dedicata ai bambini e ai ragazzi, sempre appunto della Tunuè. La storia è piaciuta all'editore che ha deciso di pubblicarmi e da lì è iniziata la mia avventura, nel senso che il libro è andato molto bene, poi ne ho scritto e disegnato un secondo che si chiama Dammi la mano, e alla fine ho pensato di fare qualcosa per un pubblico un po' più adulto. In realtà questa storia nasce come una storia per ragazzi. Poi un giorno parlando con Renato, gli ho raccontato questo mio progetto e lui a un certo punto mi ha dato dei suggerimenti, mi ha detto guarda perché non provi ad approfondire guardando Below Sea Level, che è questo documentario di Gianfranco Rosi, perché appunto Silverwood Lake è una storia che parla di una comunità di senza tetto, che vivono sulle rive di questo lago realmente esistente che si trova in California, che è appunto il Silverwood Lake. E avevo pensato questa storia per ragazzi, però poi vedendo questo documentario, nel quale appunto viene raccontata la storia di questa comunità di senza tetto, che è la stessa comunità che recita, non è che recita, ma è presente in Into the Wild, il film. Io avevo visto Into the Wild qualche anno prima, mi era piaciuto tantissimo, quando poi mi sono resa conto che all'interno del documentario di Rosi c'erano le stesse persone presenti in questo documentario, l'ho visto tutto e mi sono fatta molto affascinare da quei paesaggi, da quell'atmosfera, e quindi ho pensato che sarebbe stato bello non solo poter usare un pochino di più, quindi trattare dei temi che fossero un po' più forti, con un linguaggio un pochino più forte, quindi non necessariamente rivolte a un pubblico di ragazzi, e poi mi sarebbe piaciuto tanto ambientarlo in America, per sfruttare appunto quei paesaggi, perché sia da Milamano che a Mina il vulcano sono storie che si svolgono in Italia, in particolare a Mina si svolge sull'isola di Stromboli, a Ginostra, e quindi ho deciso di provare ad andare appunto un po' più in là, sia geograficamente sia proprio come storia. Quindi il percorso che mi porta a Silverwood Lake è questo. Simona Binni è una raffinata e sensibile sceneggiatrice anche dei suoi graphic novel, quello che si dice tecnicamente autore unico. Normalmente ci sono gli sceneggiatori di fumetti, insomma Dylan Dogg è sceneggiato da Tiziano Sclavi, è disegnato da Casertano, Roy e tanti disegnatori. Quindi quelli che sono considerati graphic novel, cioè i romanzi a fumetti, spesso hanno anche uno sceneggiatore e un disegnatore. In questo caso, e molto spesso, è un gesto di un unico autore, un prodotto di un unico autore, quindi sceneggiatore e disegnatore, quello che tecnicamente si chiama un autore completo. Perché questo piccolo excursus? Perché è stata generosa nell'introdursi Simona stasera, perché ha immediatamente messo in campo quella che era la sua provenienza, gli studi che hanno a che fare con la mente, che hanno a che fare con il disagio mentale, e soprattutto quello che comporta, evidentemente anche per quella che deve essere stata la tua, il tuo lavoro, la tua professione del passato, le conseguenze sui rapporti familiari, le conseguenze che hanno a che fare con le persone più vicine. In tutti i graphic novel, tutti i romanzi a fumetti che Simona ha pubblicato, Ammina il vulcano, Dammi la mano, ci sono sempre dei rapporti complessi. Questo libro parte con una deflagrazione immediatamente. Viene ritrovato un barbone e viene chiamato un uomo, che accorre perché si dice che questo barbone evidentemente pare essere il padre di quest'uomo. Naturalmente si innesca un contrasto, no? Sì. Allora, Diego è il protagonista, prima di parlarvi del protagonista vi dico di che cosa parla questo libro. È un libro che parla di resa. Che cosa succede nella vita quando non ce la fai e ti arrendi? Perché noi siamo abituati, per spirito di sopravvivenza, perché comunque ce lo impone moltissimo il tempo e la società in cui viviamo ad andare sempre avanti, a rialzarci. E io invece mi sono domandata che cosa succede quando a un certo punto ci si ferma e ci si dice io non ce la faccio e non ce la faccio a rialzarmi. E quindi mi fermo. Silverwood Lake parla di persone che si arrendono. perché la vita ci mette all'angolo, perché a volte decidiamo noi, attraverso le scelte che facciamo, a un certo punto di fermarci. E mi sono chiesta, ma è veramente una sconfitta fermarsi? È così grave? Perché comunque se voi avete accanto a voi una persona che si ferma, il primo istinto è quello di cercare di risollevarla. difficilmente gli direste ok, fermati, sì fermati, prenditi il tuo tempo, perché in questo momento non ce la fai a rialzarti e probabilmente è giusto così. Bisogna arrendersi a un certo punto e dire non ce la faccio. Questa è una storia che parla di persone che si arrendono. C'è poi chi decide di in qualche modo andare avanti, c'è chi rimane sconfitto, c'è chi tenta invece di risollevarsi e magari ce la fa. È la storia di Diego che è un giornalista e dopo 17 anni ritrovano suo padre. Papà era andato via di casa senza dare nessuna spiegazione. Quando viene ritrovato è un senza tetto. Diego va in ospedale per recuperarlo, ma si rende conto, chiaramente voi pensate di perdere un padre per 17 anni, immaginate che questo padre abbia fatto di tutto, un'altra famiglia, che si sia perso, che si sia morto. Quando lo ritrovate avete davanti a voi una persona che non sa chi siete. Quindi tutta quella frustrazione, voi non saprete mai perché. E Diego lo lascia in ospedale, dice ok, questo non è mio padre, perché per me mio padre è morto. Va da una sua amica, la quale poi lo consiglia, poiché sia lei che lui sono giornalisti, di portare avanti questo reportage su una comunità di senza tetto e provare a capire in qualche modo, perché la risposta non la troverà mai chiaramente, ma forse potrà trovare delle motivazioni. Perché le persone si riducono in quel modo? Che cosa succede? Quindi prende parte. In realtà incontra tutta una serie di persone che con lui non ci vogliono parlare in questa comunità, tranne due adolescenti, che poiché sono adolescenti vedono la vita, ancora per quanto sia così disastrata, hanno un modo di vedere la vita e di vedere l'amore da adolescenti e sono le uniche due persone che si affezionano a lui. E lui attraverso gli occhi di questi due ragazzi che a un certo punto si innamorano, non capisce, non saprà mai che cosa è successo al padre, ma saprà, capirà che cosa è successo a lui in questi 17 anni. È una soluzione che hai scelto per innescare il racconto molto originale, perché sono comuni i racconti di riavvicinamenti tra padri e figli, mentre tu parti da questo come se fosse una falsa pista per poi immergere il protagonista all'interno di un'altra realtà che solo lateralmente gli farà forse intuire emotivamente quello che ha provato suo padre. Da cosa nasce questa volontà di non affrontare il conflitto direttamente tra padre e figlio? Perché piuttosto farlo diventare una metafora per raccontare, forse per guardare la realtà con occhi diversi. Esatto, hai detto bene. No, non volevo parlare direttamente del loro rapporto, volevo parlare di questo rapporto attraverso tanti rapporti, quindi tutte le storie che vengono raccontate parlano in qualche modo di genitorialità. Ci sono donne che abbandonano, c'è la storia di una donna che abbandona la figlia perché non vuole essere una madre, c'è la storia di una donna che denuncia il figlio perché questo figlio la maltratta, e c'è la storia di un ragazzo che aspetta il padre pur sapendo che questo padre non tornerà mai, che è un po' l'alter ego di Diego, e quindi c'è la speranza rispetto alla sconfitta. E lui attraverso queste storie, perché è quello che succede nella vita, tante volte ci capita di ricostruire i pezzi della nostra vita attraverso le esperienze degli altri, a volte è troppo doloroso ripercorrere qualcosa che ci ha ferito o dei rapporti importanti che non riusciamo ancora a metabolizzare, però attraverso le esperienze degli altri, attraverso l'altro a volte è più facile, è più catartico a riuscire poi a ricomporre i pezzi della propria vita, ed è quello che fa Diego. Hai fatto con Silverwood Lake anche un salto dal punto di vista grafico. Stiamo parlando di racconti, stiamo parlando di rapporti personali, stiamo parlando di emozioni, di legami familiari e di sguardo sulla realtà. E poi tutto questo lo stiamo facendo attraverso un fumetto, e questo è interessante perché appunto il fumetto consente una stilizzazione, però non rinuncia a uno sguardo sul reale, sulla realtà. E forse è anche per questo che si era deciso di inserire Silverwood Lake all'interno di questo festival, proprio perché si parla di narrazioni e cultura politica. Insomma, quando si parla di comunità laterali, evidentemente si parla di società, insomma è uno sguardo politico diretto. in che maniera hai scelto di disegnare questo nuovo sguardo, questo mondo? Allora, in realtà è molto più istintivo di quello che non si pensi. Cioè, poter dire che c'è dietro proprio un ragionamento o no, nel senso che quando poi si disegna e si racconta le storie disegnando, ti devi tanto affidare all'istinto, a quello che in quel momento sai essere la forma giusta per esprimere quella cosa. Poi tra l'altro qui c'è anche un esperimento per quanto riguarda la colorazione, perché io sono disegno ma non avevo mai colorato una mia storia, quindi le altre due storie avevano una colorista e un colorista, che non ero appunto io evidentemente. Invece questa volta ho detto, va bene, provo a fare tutto quanto, cioè imparo a colorare, comincio a colorare e faccio tutto io. Quindi è stata una grande scommessa quella di dire, chi lo sa, ce la farò, sarò in grado, perché comunque la colorazione di tutto un graphic novel, che sono 170 pagine e passa, non è una cosa proprio semplicissima. Però ti devo dire la verità, ho usato il colore in maniera molto psicologica, nel senso che mi sono detta, forse quello che posso fare è cercare di utilizzare il colore e metterlo al servizio della mia storia. Quindi che cosa voglio raccontare in quel momento e quale penso sia il colore che possa coinvalgere il lettore. Quindi accompagno tutta quanta la lettura. A un certo punto c'è un momento molto drammatico in cui si parla di morte. E io mi sono chiesta, che cosa vede una persona che sta per morire? Come coloro una persona che sta per morire? Che colori vede una persona che sta per morire? E ho pensato, forse chi muore non vede i colori, vede soltanto dei particolari. E quindi a un certo punto la morte viene raccontata attraverso una colorazione molto scarna, ma che accompagna, secondo me, quello che vede una persona che sta per morire. Quindi insomma c'è una forte immedesimazione nei propri personaggi, ai quali ti affezioni e dai quali è molto molto difficile staccarsi. Pesante. Un altro dei dettagli di tutti e tre i tuoi libri, Simona, non è un caso appunto che siamo con il mare dietro, è l'uso espressivo che fai del paesaggio. Si svolgevano su delle isole, gli altri, gli altri libri. Questo si svolge appunto all'interno di un parco naturale con un lago. Qual è il ruolo del paesaggio per il racconto dei personaggi nei tuoi fumetti? Beh, allora, il paesaggio, la natura, aiuta tantissimo. Immaginiamo queste persone che vivono, che appunto vivono in delle tende, vivono accampati, però lo fanno in un posto che paesaggisticamente è meraviglioso. Quindi sicuramente la natura da questo punto di vista è catartica e ci aiuta. Sicuramente essere un senza tetto, vivere sotto un ponte in una grande metropoli è una cosa, da viverlo, perché poi l'idea di questa comunità ovviamente immaginaria, che però riprende quella comunità di hippie che vive e che realmente esiste, di below sea level, è proprio questa, cioè l'idea che in qualche modo la natura ci avvicini e possa alinire sicuramente il dolore. Una caratteristica però dei miei libri, o sicuramente di questi primi tre, e del prossimo che uscirà a breve, che invece si ambienterà tutto quanto a Lampedusa, è proprio l'acqua, che è un po' un filo conduttore. Tutti i personaggi dei miei libri attraverso l'acqua hanno una sorta di epifania, riescono a incontrare la parte più profonda di sé e a capire delle cose. È un po' un gioco dell'inconscio, quindi l'acqua come questo elemento fluido all'interno del quale ci si perde. Avete provato a immergervi sott'acqua? A un certo punto, lo diceva Jules Verne, sopra si scatenano le guerre, venti centimetri sotto c'è la libertà. Voi ficcate la testa sotto l'acqua e siete con voi stessi, con quel silenzio. E questo è quello che ho cercato un po' di riprodurre, sia qui, sia anche negli altri libri. Sei una grande lavoratrice, oltre che, secondo me, nella grande dedizione che fai nel tuo lavoro. Ti dedichi tantissimo alle presentazioni, agli incontri con le persone e anche agli incontri con i ragazzi. Non ultimi, sono anche tanti interventi. Il Tg1 ti segue molto. Spesso in ogni produzione è sempre molto attenta, le redazioni dei telegiornali sono sempre molto attenti alle tue produzioni. Volevo capire qual è i libri e i graphic novel così complessi emotivamente, ancora di più, poi diventano anche un'opportunità per incontrare delle persone, per scoprire delle altre realtà. Volevo avere da parte tua qualche riscontro su quello che hai scoperto, su delle persone che ti hanno raccontato di loro stessi. Magari leggendo i loro libri. Ah, bellissimo. È un libro, come diceva Umberto Eco, un libro non è mai completo finché non c'è lo sguardo del lettore, è il lettore che completa il libro. Quindi la cosa che mi ritorna indietro ogni volta che qualcuno legge i miei libri e poi mi scrive, io a questo tengo molto, per questo lascio sempre la mia mail. E devo dire che le persone mi scrivono tanto, ragazzi, persone... ecco, con questo libro ho un pubblico sicuramente molto più adulto, però va dai 20 ai 70, 80 anni, ed è bellissimo perché ogni volta che mi scrivono, ogni volta che li incontro alle fiere, loro mi restituiscono qualcosa che io non sapevo di averci messo. Cioè, in realtà, ce l'ho messa, in qualche modo, ma loro l'hanno trovata e l'hanno restituita a me. E questa è la cosa più bella perché il lettore veramente non solo completa la storia ma completa a te e restituisce un senso a quello che tu fai. E io credo che manifestazioni come queste, le fiere, il contatto diretto con il lettore siano la parte più bella. Anche perché, detto tra noi, io quando ero piccola e disegnavo le mie storie e mai avrei immaginato una cosa del genere, il mio sogno più grande era che qualcuno le leggesse queste storie. E oggi io il mio sogno l'ho realizzato. Nel senso che, al di là di tutto, io scrivo, disegno e poi ho qualcuno che legge le mie storie e ne parla con me. E questa per me è la cosa più importante. Cioè, poi, il rapporto che si crea con le persone che hanno letto le storie che io ho scritte e ho disegnato per me diventa il mio completarmi come essere umano. è una curiosità, Simone, rispetto ai capitoli, alla scansione in capitoli che decidi di fare. Dal punto di vista grafico, Simone è molto libera, riesce a, usa delle splash page, cioè usa delle pagine complete, frammenta la pagina in tanti piccoli dettagli. Insomma, la lettura è molto fluida, ha un grande ritmo nella lettura senza rinunciare ai silenzi. Insomma, non ci sono grandi rumori, c'è un senso della contemplazione ritmica che ha a che fare con un montaggio visivo, insomma, con una grande consapevolezza dello strumento grafico. Tutto questo è puntellato, questi ritmi dilatati sono puntellati, appunto, sono scanditi in capitoli e sono puntellati anche da delle poesie o delle citazioni, insomma, che appunto naturalmente aiutano a canalizzare forse le emozioni del lettore. Volevo capire qual è stato, insomma, che cosa, se c'è stata così disinibizione, libertà, nel prendere qua e là queste citazioni oppure se c'era un filo rosso segreto. Allora, l'idea era quella di volevo usare un mezzo diverso per ogni citazione, volevo utilizzare il fumetto, poi volevo utilizzare una poesia, una citazione da un film e così infatti ho fatto, però queste citazioni sono, nel senso, ogni citazione introduce un capitolo che introduce un personaggio, la storia è unica ma ogni capitolo è dedicato a un personaggio, sta poi al lettore capire cosa di quella citazione suggerisce cosa di quel personaggio, quindi questo io non do indicazioni, questo è assolutamente libero, io quando, cose che ho trovato anche mentre scrivevo la storia, cose che mi ricordavo, per esempio le citazioni di Pulp Fiction, sapevo già perché la volevo mettere lì, il resto sono cose che mi sono anche capitate, come per esempio in Dammi la mano, che è l'altro libro prima di questo, a un certo punto racconto, c'è questa scena dove questi due ragazzini si tuffano insieme, sono due tredicenni, quindi è un momento di passaggio, un rito di passaggio quello del tuffarsi insieme, lei ha paura e lui gli dice guarda io ho più paura di te, dammi la mano che poi è, dai il titolo al libro e si buttano insieme e io a un certo punto mi sono detta, non so, cioè, volevo dire qualcosa ma non sapevo cosa dire, stavo ascoltando la radio, a un certo punto hanno passato la canzone di Subsonica e il ritornello di quella canzone in quel momento era perfetto e ce l'ho messo, a volte è anche una questione, non lo so, il caso, però in quel momento ci stava bene, il mio sentire mi ha suggerito che quella cosa sarebbe stata bene, quindi questo tuffo è accompagnato dal ritornello della canzone di Incantevole. Seguendo il caso vorrei chiudere questo incontro lasciandoti leggere la seconda delle citazioni se ti va che scandisce l'ingresso al secondo capitolo prima ancora di lasciarti a queste meravigliose parole ricordo che naturalmente i libri sono a disposizione, insomma ci sono Emanuele Di Giordi e Massimiliano Clemente della Tunue hanno il loro carico di libri e come tutti gli incontri con autori di fumetti che si rispettino l'autrice è a disposizione non solo per firmare le copie ma addirittura per autenticarle per disegnarle quindi è sempre una grande opportunità avere un incontro esclusivo con una disegnatrice come Simona a cui lascio le parole di Emily Dickinson che ci collegano direttamente con questo festival e con questo paesaggio Su questo mare meraviglioso navigando in silenzio oe pilota oe conosci tu la riva dove non urlani marosi dove la tempesta è oltre nel tranquillo ponente molte le vela riposo le ancore salde laggiù ti conduco terra oe eternità arriva finalmente silverwood lake di simona binni disponibili i libri di là il festival è così si passa avanti al prossimo incontro grazie dell'attenzione della sensibilità grazie a tutti